La prima settimana è andata bene, abbiamo iniziato a ricondizionare i giocatori dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista tecnico abbiamo iniziato a lavorare prevalentemente sui fondamentali di base, quindi i primi salti controllati. Per la seconda settimana uno degli obiettivi è quello di cercare di portare più o meno tutti quanti allo stesso livello, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Ma allora ancora non sappiamo con sicurezza l'arrivo, chiaramente siamo desiderosi di accogliere nel nostro gruppo, prima arrivano prima riusciamo a lavorare anche sulle dinamiche di squadra, sia dal punto di vista dell'interazione dei giocatori sia anche e soprattutto dal punto di vista tattico. All'inizio ci servirà anche per cercare di sviluppare un po' di gioco, perché insomma essendo così pochi è chiaramente difficile riuscire a vedere come ci si muove in campo i vari meccanismi di gioco. cercheremo di capire dove dovremmo cercare di lavorare di più, di che pasta siamo fatti sostanzialmente.